Benvenuti. Questo è Game Over. Continue. Avrete un minuto di tempo per scegliere la risposta che preferite e cliccarci sopra. Box. Ginnastica. Eh, Cleopatra, se portami in Egitto, brava! Brava così verso la fine, opala, eh! Lei non ha paura delle scatole, se mai le rompe. Lei ha paura della fine! Ma quanto è bello il suono di questa parola! Io non finirò più niente! Siete pronti? Questa è la fabbrica più importante del mondo. E io sono il capo! Il capo!